www.redigio.it e la storia continua Ma vai a quel paese, ad esempio a Cassina dei Pecchi E' un comune dell'ex circondario di Milano, mandamento di Gorgonzola, posto lungo la strada provinciale da Milano, Bergamo, Brescia, sulla riva sinistra del Naviglio Martesana. E' un territorio ubertuoso di pascoli, cereali e gelsi, con una produzione di latticini e formaggio detto stracchino. Un cascinario di proprietà della famiglia Pecchi, trasformatosi gradatamente in un discreto villaggio, ha dato il nome a questo comune. Vediamo anche in passato, distinto dai comuni limitrofi. Nel secolo XVII esisteva già in Capsina Pecchiorum un oratorio dedicato a Santa Maria Assunta e San Lorenzo, appartenente alla grangia, che sarebbe la colonia del monastero, dei padri celestini di Milano, San Pietro Celestino, nell'attuale via Senato. E nel secolo XIX al gius patronato passò ai nobili Villata di Villatburg, cavalieri dell'impero. Il 22 giugno 1388, nel comune di Camporicum, detto poi impropriamente Camporicco, il nobile Bonzio Corio fece costruire nel proprio fondo un oratorio in nome della Natività di Maria e ne ottenne il gius patronato già l'arcivesco Antonio Saluzzo. Esso dipendeva, come Cassina dei Pecchi, dalla parrocchia di Cernusco sul Naviglio. Sinché Federico Berlomeo, il 23 febbraio 1605, in occasione di una sua visita pastorale, vedendo l'oratorio sostituito con una chiesa piuttosto ampia e considerando il bisogno alla popolazione, convocati i padri di famiglia, dichiarò eretta in parrocchia questa nuova chiesa della Natività di Maria. Distrutta da un grande incendio, venne nel 1816 rifabbricata a spese di donna Ludovica Busca, figlia del duca Galeazzo Serbelloni. Pare che il nome del villaggio deriva da Campus Enrici, ma non è certo che esso sia quel Campornico presso cui stava Quinto, secondo un atto del 10 settembre 1879. Quinto proprio Vico Campornico. Perché il nome è differente e dall'altra parte, e non si trovò sinora Ivi traccia di un luogo chiamato Quinto. Del resto, gli storici dichiarano sospetta questa carta del 10 settembre, mentre considerano come genuina quella dell'11 novembre, che contiene l'ultimo, e forse anche unico, testamento del grande arcivescovo Ansperto degli Abruzzi di Biassono. Nella modernissima Pieve di Gorgonzola, e precisamente nei dintorni o subborghi di questo grosso centro, il Burgo di Gorgonzola, come afferma Goffredo nel secolo XIII, esisteva da tempo una chiesa dedicata alla Vergine e Martire Sant'Agata. Il Giulini ritiene che di questo luogo si parli nel Liber Censum del 1192, quando vi si legge che nelle diocesi di Milano il Monasterium Sante Agate doveva ogni anno sei denari milanesi alla Santa Sede, in quanto ad essa immediatamente il soggetto. Ciò si può benissimo ammettere, senza tuttavia affermare che le religiose siano state poi trasportate nel monastero di Orona in Milano, dove ora sorge la Cassa di Risparmio, in via Monti di Pietà, e presso cui esisteva una casa di Sant'Agata, Domus Sant'Agate. E' noto che il feudo di Melzo e della Pieve di Gorgonzola passò da Lucia Marliani, Visconti e figli, ai Tribulzio, 1499-1516, agli Stampa, 1513-1530, ad Antonio Deleiva, 1526, e poi di nuovo a Tribulzio dal 17 giugno 1531 al 15 gennaio 1679, quando, cioè, nel grande feudo, riportò alla Camera per la Morte del Principe Antonio Teodoro senza discendenza. Nei relativi strumenti si vedono nominati, fra parecchi altri, distintamente ai luoghi di Sant'Agata, Camporico, o Camporico, Cassina dei Pecchi, e Casal Cendario, poco distante, ora chiamato Casale Cendrale. Il 5 di aprile del 1691, i comuni di Camporico e Cassina dei Pecchi, quella con 32 e quella con solo 18 focolari, furono concessi in feudo al duca Gabrio Serbelloni e discendenti maschi primogeniti, compreso naturalmente Casale, considerato come una frazione. Il comune di Sant'Agata fu invece dato il 30 luglio dello stesso anno in feudo al conte Francesco Corio, 30 focolari e diritto all'imbottato. E fu ceduto il 21 aprile 1725, con regio ducare assenso, al marchese Luigi III di Bergamo, 49 focolari. Il governo italiano riconobbe poi, al primo genito Serbelloni, duca di San Gabrio, il titolo di signore di Camporico o Camporico e al primo genito, terzi, il titolo di signore di Sant'Agata. E nel secolo XIX Camporico fu aggregato al comune di Cassina dei Pecchi. Sant'Agata ebbe l'appellativo di Martesana, perché è situato presso il Naviglio, così denominato. Ma un decreto ministeriale del 9 giugno 1870 esso pure divenne frazione di Cassina dei Pecchi. Ecclesiasticamente questo capoluogo dipende ancora dalla parrocchia di Camporico o Camporico. La chiesa di Sant'Agata, già filiale di Gorgonzola e priva di beneficio, fu eretta in parrocchia nel 1570 e consacrata dallo stesso San Carlo il 20 novembre del 581. Dotata dai marchesi Cusani, questi vi esercitarono il gius patronato, che passò poi all'ospedale maggiore di Milano. La pieve di Gorgonzola venne nel 1918 suddivisa ecclesiasticamente nei tre vicariati foranei di Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio e Inzago. La parrocchia di Sant'Agata Martesana continuò a far parte del primo e quella di Camporico intitolato alla Natività di Maria Vergine fu assegnata al secondo. La parrocchia di Sant'Agata comprende anche le cascine Cusana e degli Angeli del Comune di Vignate. Casino dei Pecchi comprende quattro opere pie e due legati benefici che ricordano i nomi delle famiglie Brambilla Orlandi Tornaghi Sardi Radelli e Cagnola letti nell'ospedale di Gorgonzola. Vi è inoltre una borsa detta Armeno per gli studi agrari. Sant'Agata ha anche un asilo di recente fondazione. Casino dei Pecchi nel censimento del 1931 risulta con una popolazione di 1659 abitanti e il Comune ha dato alla Grande Guerra 22 caduti sul campo dell'onore. www.redigio.it e la storia continua.